Scenari veramente stupefacenti, quelli che ci attendono per il periodo pasquale. Le evoluzioni si susseguono giorno dopo giorno, dice il Meteor.it, e ora sembrano avere un minimo comune denominatore, l'aria africana portata dal ritorno dell'anticiclone africano Hannibal. Analizziamo il dettaglio che conferma questa evoluzione. Verso gli ultimi giorni, nel mese di marzo, una depressione nord-europea scenderà di latitudine e si posizionerà tra Francia e Spagna. Come risposta a quest'azione dall'Africa risalirà l'alta pressione africana Hannibal che trasporterà venti caldi sahariani verso il Mediterraneo e quindi verso l'Italia. È logico capire come le regioni meridionali saranno le più colpite da questo afflusso africano, cosicché le temperature dal 31 marzo e fino al 2 aprile saliranno oltre la media del periodo di quasi 15 gradi. Avete capito bene, quasi 15 gradi. Valori massimi di un ipoteticamente vicino ai 30-33 sulla Sicilia, 24-29 sul resto del sud, insomma, valori tipicamente tardo primaverili o di prima estate.